Ben tornato a Luca Biasoli della pasticceria Clivati, Re Panettoni edizione numero 12. Innanzitutto che novità ha portato quest'anno? Quest'anno abbiamo portato il panettone con uvetta, vermut e zenzero candito. E poi abbiamo il classico panettone con tre cioccolati, marron glacé, amaretto e caffè che sta riscuotendo un buon successo. E invece il lievito madre lo conserva alla francese o alla milanese? Alla francese in acqua. E per via del suo maestro del passato oppure una scuola tecnica? Una scuola nuova perché mio maestro del passato, mio padre, lo faceva alla milanese legato e tenuto in frigo. Il pubblico sta apprezzando i suoi prodotti? Direi di sì, la gente assaggia, è curiosa, domanda, per cui è una buona risposta. Io le faccio i miei complimenti, mi auguro di rivederli l'anno prossimo e buone feste. Grazie a voi e buona continuazione. Grazie a tutti.